Oh, e il piccolo Lord? Questo qua di Jack Gold, figo! Oh, quella cazzata, quella cazzata che ti piace a te, quella coi squali, troppo bello quello! Ho capito, dico, però allora dillo che te non ti vado a vedere niente oggi, eh! Jolè, ti dico di una cosa? Ho bisogno di uscire. Ma per fa' che scusa? Non mi sento più le gambe, devo fare una passeggiata, una circolazione. Vabbè, ma magari è un periodo, cioè, ma magari forse è colpa dello stress, è colpa della routine. Un sacco di coppie affrontano ste crisi, no? Non è più come all'inizio, mi si è rotto qualcosa dentro, non sento più il friccico. Ma che ti piace, un altro divano? Ma ma che c'entra? Non è quello. Ma perché guarda che il divano, cioè, il divano si può cambiare, ne compriamo un altro. Che vuoi? Più cuscini? Compriamo altri cuscini, non è... Ma non è quello, il divano c'ha pure la forma delle chiappe mie. Io voglio andare fuori, voglio sentire l'odore dell'erba, della ruggiata. Voglio andare a prendere il cocktail sulla spiaggia, voglio fare le passeggiate, voglio vedere i cagnolini sul bagnasciuga. Oh, aspetta. Forse è il problema, non so io, no? Ma magari dobbiamo soltanto dar un po' di pepe a relazione. E come si fa? Se rivedemo tutto Lost. Eh? Eh? Biseldina mia, quanto te amo. Ti metto la versione coi contenuti speciali. 48 ore. Oh, 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 oh.